il pepe indicativo di un vede qua un tantino la scaricano posteriore sinistro rispetto al destro tenuto leggermente diverso bravissima poi se ce la fa me la fa saltare su quel murettino lì me la fa saltare su e giù due o tre volte ancora su benissimo adesso me la fa camminare in là un momento andate in giù nel movimento il mio corpo in movimento in discesa e salite bene venite verso di me allora tornate su si va no ritornate su dai andiamo grazie a tutti grazie a tutti